Il caro Energia sta causando difficoltà a famiglie e imprese con un rallentamento dell'economia e un aumento dell'inflazione. Una situazione sottolineata ieri dal Premier Mario Draghi nel corso di una conferenza stampa. E proprio al Governo si rivolge Monica Satolli, Presidente dell'Unione Nazionale Consumatori Sardegna, nel sottolineare che se è consapevole di questi rischi, l'Esecutivo deve far seguire subito i fatti. La benzina, aumentata del 5,8% in meno di un mese e mezzo, non è nemmeno nell'agenda del Governo, rileva l'Associazione. Mentre sarebbe fondamentale ridurre le accise di almeno 20 centesimi per calmirare l'inflazione. Il caro Carburanti, infatti, oltre agli effetti diretti sulle tasche degli automobilisti e dei camionisti, col gasolio salito del 6,6% solo nel corso del 2022, produce effetti indiretti sul rialzo dei prezzi di tutti i beni trasportati su gomma, sottolinea la Presidente Satolli. Anche per questo stanno esplodendo i prezzi dei prodotti alimentari, che passano dal 2,8% di aumento tendenziale di dicembre al più 4 di gennaio. Le famiglie stanno ricevendo una bolletta doppia rispetto allo scorso anno. Infatti, l'energia elettrica per la famiglia tipo nel mercato di tutela nel primo trimestre 2022 è aumentata del 55% rispetto al quarto trimestre 2021, ma addirittura del 129,5% rispetto al primo trimestre 2021, mentre il gas è salito rispettivamente del 41,8% e del 94,3%, conclude la Presidente Satolli.